Andiamo qui, appena lo tagliano. Sì, un grande evento che evidenzia appieno quello che è la forza dirumpente del MidiNita, le sue ispirazioni, le sue creazioni, la sua capacità di coniugare al meglio identità e innovazione diventando noi sì, davvero, i produttori di qualità e di eccellenza nel mondo. Questa è la forza dell'Italia, del brand Italia. Guarda che volevamo metterla ai fornelli, però anche qualcos'altro. Grazie. 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 Grazie.